Prova riservata alle femmine di 4 anni, la distanza è quella del miglio, sono in 9 al via. Prima fila per Clorex, Costa Rica Pax, Conte Bella, Contessa Dino, Crystal Griff, Cleverfit LF, Carola Griff e Cayenne SLM. Seconda fila per Circe 3B, Autostart che prende velocità. Con prudenza Cleverfit LF, ma anche Crystal Griff, alla chiusura delle ali emerge Contessa Dino, nei confronti di Conte Bella che cerca di rientrarla con l'aiuto della curva. 200 metri in 13 e 8, sta passando Contessa Dino, che è un fronte di Conte Bella che vuole avere destra libera, mentre inizia la risalita Cayenne SLM. Conte Bella a tornare al comando dopo un quarto in 29 e 3, in anticipo su Cayenne che insiste ai suoi fianchi, poi terza ruota per Crystal Griff. Dopo 600 metri in 44, sfila a condurre Cayenne SLM, con Alessandro Gucciadoro che la mette sul passo. Seconda posizione Conte Bella affiancata da Crystal Griff, curva in 15 e mezzo, 59 e mezzo, gli 800 metri iniziali. Poi in difficoltà di meccanica Crystal Griff, finita la curva, si mette dritta e prova ad avvicinare la Lida. Nel frattempo dalle retrovie si fa notare per una lunga progressione, Cleverfit LF, chilometro in 1'14,8. Cayenne al comando, Crystal Griff ai suoi fianchi, terza ruota per Cleverfit, 1'29,3, 3 quarti di miglio. Cayenne SLM viene richiesta per l'allungo e prende una di margine a Crystal Griff che come al solito peggiura nelle curve. Retta d'arrivo, Cayenne SLM in fuga, Cayenne SLM è il patron in netto vantaggio, mentre la lotta per le piazze vede Carola Griff superata sia da Crystal Griff che da Cleverfit LF. La media dovrebbe aggirarsi intorno all'1,14,3 per una ritrovata Cayenne SLM, Davaren e Carisma Z, la genealogia, i colori del signore Ettore Berna, il team gucciadoro al training e del patron in salchi. Sicuri alla meta. Quindi arrivo probabile ed ufficioso, 8 Cayenne SLM, 5 Crystal Griff e 6 Cleverfit LF. Grazie a tutti. Grazie a tutti.